Sarà un weekend di grandi eventi natalizi, quello che avvicina napoletani e turisti al 25 dicembre. A Pozzuoli la magia del Natale è rappresentata da un presepe vivente organizzato dalla compagnia di Tirambo, che ieri sera, in replica il 4 gennaio, darà vita ad un'ambientazione napoletana dinnanzi la capanna della Natività. Il tutto si svolgerà all'interno dell'agriturismo Il Gruccione, sulla suggestiva collina del Montespina. Grazie al contributo dell'azienda VTV Nicola Iovino, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, a parlarci dell'iniziativa Gaetano Basile e Antonio Iovino. Questo diciamo che non è proprio un presepe, ma sono ambientazioni natalizie che abbiamo raccolto studiando e mettendo assieme degli autori della tradizione napoletana. Parlo di Gian Battista Basile e di Giulio Cesare Cortese e tanti altri. La novità è che ci saranno anche dei musicisti, assieme ai quali canteremo delle canzoni tradizionali questa volta. L'idea è nata proprio di rappresentare il presepe vivente come si rappresentava nel lontano 700. Sarà un villaggio con 15 attori che teatralizzano proprio tutto il percorso del presepe fino alla natività di Gesù e verrà rappresentato proprio nella vigna storica dell'azienda Il Gruccione. Per gli amanti dell'albero di Natale invece tappe obbligate al Gambrinus con l'albero della musica napoletana organizzato da Gianni Simioli e all'hotel Mediterraneo con Animal Head. Abbiamo qui l'albero esposto all'ingresso del Gambrinus con delle palle straordinarie ispirate ovviamente alla pop art filmate da Luca Coppola Stellina che raffigurano poi, come diceva lei poco fa, i protagonisti della musica napoletana dai primi del 1900, ma pure brim, a oggi. Altri appuntamenti natalizi si segnalano a Limatola dove va in scena il tradizionale mercatino di Natale al castello, così come ad Ottaviano al castello Mediceo, mentre a Salerno è festa grande con le luci d'artista.